Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video di allevamento amatoriale da un po' che era il solito. Ragazzi siamo alla Piedad di Latina e un giro veloce da gli animali con la qualità inglese inseparabili. Per la prima volta ho visto dei cana e per la prima volta ho visto dei canali in magistratta in grigio e per la prima volta ho visto un amico Gianluca di azienda Golibri questa è la nostra fira ragazzi abbiamo Nigrige, Liliae, Urpus, Pachiaromo cartelli di Maio, Caneire con Zambito scusate cucolotti basechini cinciallegre, minciarella scusate riprendiamo il nostro giro ragazzi da dove avevamo interrotto ovviamente i canarini oggi siamo venuti per pappagalli calopsite curaghi pillura buonaci femmine la mostra non è tanto male c'è qualcosa in esposizione ci avviciniamo i pappagalli ci avviciniamo i pappagalli monaci polari roselle giubbiana ingevarabile monaci pirura calopsite ragazzi ragazzi ancora monaci no scusate collari ancora diciamo è l'anno dei collari sicuramente segure cosa ora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.